Ma onestamente io non l'ho visto male, anzi, chiaramente è normale che dopo un periodo così, in una piazza calda così, qualche momento di difficoltà ci può stare durante la partita, però ha fatto un buon possesso, ho visto girare bene la palla, mi è piaciuto come ha giocato e poi chiaramente davanti ai giocatori importanti, questo lo sappiamo, e quindi l'occasione alla fine sono riuscito a crearla, sono stati bravi, però a me è piaciuto come ha tenuto il campo, come ha girato palla, sicuramente. Ma no, devo dimostrare a me stesso perché onestamente era una stagione a zero gol, quindi quello che devo dimostrare a me stesso, poi che è capitato a Catanzaro va bene, però quello che devo dimostrare a me stesso, insomma di tornare il giocatore che ho dimostrato di essere, qua a Catanzaro sicuramente è stata una parentesi un po' strana perché sapete che con il mister non c'era questo rapporto, il mister aveva fatto altre scelte e io l'ho accettato. Però insomma va bene così.